Siamo ormai in piena stagione balneare, il bel tempo e l'allentamento delle misure anti-Covid lasciano trapelare sprazzi di normalità e le località costiere di Fiumicino tornano ad affollarsi. Nei primi due weekend di giugno si sono già registrati numeri da overbooking che hanno costretto gli agenti della polizia locale agli straordinari. Abbiamo fatto dei numeri importanti, soltanto in due weekend abbiamo superato le 200 sanzioni per il codice della strada, per le soste selvagge, poi a parte non c'è da dimenticare l'elevato numero anche di sinistri stradali. Un impegno fondamentale, quello degli agenti della polizia locale che a Fiumicino da troppo tempo viaggiano a ritmi sostenuti a causa della carenza di organico. Abbiamo dispiegato diverse pattuglie, nonostante purtroppo una carenza di organico che non si può subito e immediatamente colmare. A breve anche avremo il supporto degli ausiliari del traffico, 15 ausiliari del traffico che saranno impiegati ovviamente nelle giornate del weekend e non soltanto per coadiuvare l'attività della polizia locale. Con il ritorno a pieno regime dell'aeroporto Leonardo da Vinci poi sono incrementati anche i controlli anti-abusivismo. Abbiamo sicuramente dato un grandissimo supporto noi e le altre forze dell'ordine che in aeroporto partecipano attivamente al contrasto dell'abusivismo di taxi o anche di denoleggi con conducente o degli abusivi totali. Numeri importanti arrivano dal bilancio delle sanzioni elevate ai danni degli incivili che abbandonano indiscriminatamente rifiuti per strada e nei campi. Abbiamo selezionato delle aree notoriamente oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti e abbiamo collocato queste fototrappole che hanno dato molti riscontri, abbiamo sanzionato moltissimi cittadini, non sono soltanto locali, bensì molti provenienti da fuori città. Infine i recenti incendi che hanno colpito il territorio hanno fatto alzare il livello di allerta delle forze dell'ordine che raccomandano buonsenso e rispetto delle regole. Faccio un appello al fine di garantire l'incolumità di tutti in merito all'innesco di incendi. Siete tutti pregati di osservare e di prendere visione dell'ordinanza del 30 maggio del sindaco del comune di Fiumicino.